Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una luce LED dedicata a chi ama registrare video al buio o comunque con scarsità di luce ambientale, come vedete abbiamo un box in cartone targata ovviamente in manfrotto quindi sicuramente sarà di qualità, procediamo adesso a vedere cosa c'è all'interno della scatola, all'interno della stessa troviamo le istruzioni come potete apprezzare, troviamo il faro vero e proprio, quindi abbiamo poi il supporto che bisognerà popolare di batterie, tuttavia abbiamo appunto il faro in questione e abbiamo il supporto che ci permette, come potete apprezzare, l'aggancio facile e rapido ai vari supporti a slitta che ormai si stanno diffondendo anche sulle camere, quelle amatoriali per intenderci, non solo sulla reflex professionale. Abbiamo comunque le istruzioni, ci dice che l'illuminatore manfrotto è alimentato da 4 batterie AAA eccetera, in soltanto ci danno le informazioni essenziali per essere operativi con il faretto in questione, noi ovviamente metteremo in funzione il tutto, vedremo un attimino come si comporta, faremo anche alcune prove al buio, in penombra, giusto così anche per capire la qualità e la potenza della luce che riesce a mettere questo faro, dopodiché vi faremo sapere e vi renderemo quindi una recensione finale. La demo sul spacchettamento è conclusa, nella confezione di vendita non c'è altro, quindi il video in questo caso termina così, io vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube dell'Emotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto presto da Giuseppe Ragozzino.